Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, in questo video lavoriamo sull'account Google o sui nostri account Google se ne hai più di uno. Che cosa succede? Succede che se tu cambi telefono o hai cambiato telefono in passato o tablet o computer, sui tuoi account sono rimasti anche i dispositivi vecchi. Quindi in pratica tutte le volte che tu accedi al tuo account con un dispositivo, computer, smartphone o tablet, lui si registra nel tuo account. Quindi se tu il telefono vecchio non ce l'hai più o il computer vecchio non ce l'hai più e non hai più intenzione di usarlo, sarebbe bene andare ad eliminarlo dal tuo account Google per una questione di sicurezza. Quindi quel dispositivo viene dissociato dal tuo account Google e se volesse rientrare, perché può farlo nel senso che ce l'hai lì, il telefono dice aspetta che tiro fuori il telefono vecchio e lo uso, devi ri-autenticarti. Quindi questo garantisce sicurezza ai tuoi dati. Quindi adesso andiamo a farlo. Dato che io cambio spesso smartphone per provarli, mi trovo a dover fare questo lavoro abbastanza spesso. Andiamoci. Quindi apro Google, in questo caso apro il browser Google Chrome, sono loggato con il mio account personale, in questo caso, e devo andare a fare il lavoro dei dispositivi. Quindi premo sul mio account, qui in alto, vado su gestisci il tuo account, arrivo in questa posizione, scelgo sicurezza, e a questo punto vado a vedere che cosa è successo. Allora, sono entrato in questo account con un nuovo dispositivo, dieci minuti fa, qualche minuto fa, e adesso vediamo un po' che cosa devo fare. Qui in fondo trovo i tuoi dispositivi. Questi sono tutti i dispositivi collegati al mio account. Ci sono due Windows, su uno più computer, e cinque Android, quindi ci sono vari telefonini, tablet e quant'altro. Vado su gestisci i dispositivi per vedere di togliere quelli che non uso più. Quindi questi sono i Windows, due Windows, ok, sono i miei computer, e questi sono i dispositivi Android. Sono diversi, devo andare a identificarli. Non c'è il nome qui. Allora, questo è nuovo, è entrato cinque minuti fa, lo so perché ho registrato il video precedente, e lo voglio togliere subito, quindi premo qui. Vediamo se vediamo il nome di questo dispositivo. Non c'è nome, ma non è un problema, perché riconosco che è l'ultimo. Dico esci, confermo, e questo dispositivo, dico ok, non potrà più accedere ai miei dati. Certo, alcuni dati, dice, potrebbero essere ancora disponibili, perché il dispositivo magari li contiene, ma è protetto da password, prima di darlo via, se lo darò via lo formatterò e quant'altro. L'importante è che non possano più entrare nel mio account e vedere tutti quanti i dati presenti e i futuri. E quindi sono contento così. Per cui uno è stato tolto. Adesso vediamo questo. 20 minuti fa, vabbè, sono entrato 20 minuti fa. Non è nuovo, ma l'ho usato 20 minuti fa. Devo riconoscerlo, quindi premo qui. Non lo riconosco. Il primo accesso è 6 gennaio, non lo riconosco. Se io premo su Trova dispositivo, mi viene detto il nome. Quindi eccolo qua. Sì, questo telefono ha accesso al mio account e voglio mantenerlo. Quindi lascio stare, qui chiudo e torno indietro senza fare niente. Quindi questo è il Windows attuale, questo è l'altro computer, questo è quello di 13 minuti fa. Anzi, partiamo dal fondo così facciamo prima. Allora, questo è stato disconnesso 6 minuti fa. Ok, è quello che ho disconnesso io. Vediamo questo che è nuovo. Vediamo di cosa si tratta. Trova dispositivo. Ok, questo è nuovo di qualche giorno fa e va bene, lo voglio tenere. Per cui torniamo indietro. Andiamo sempre sul fondo. Questo è disconnesso, questo è nuovo. Questo vediamo di cosa si tratta. Trova dispositivo. Questo è il mio tablet. Ok, lo tengo. Allora, andiamo avanti. Torno quindi indietro. Indietro da qua. Quindi questo sì, questo sì, questo sì. Questo qui, vediamo. Trova dispositivo. Questo l'abbiamo già visto. Va bene. Però forse è doppio. Può essere che sia doppio, ragazzi, perché se tu hai fatto l'accesso due volte, puoi risultare doppio. Questo qui nuovo di 13 minuti fa. Vediamo, trova dispositivo. È il mio telefono attuale. Quindi vanno bene tutti. Allora facciamo due conti per capire bene come sono messi. Adesso, quindi io ho i due computer. Ok? Il telefono mio personale, il telefono che uso per fare gli esperimenti, il tablet e l'altro telefono che ho appena messo in funzione. Ok, ci siamo. Questo è stato disconnesso. Perché questo disconnesso non sparisce? Sparirà tra qualche tempo. Nel senso che rimane ancora qui un po' di tempo, ma poi a un certo punto se ne andrà. Quindi sono a posto. Ho collegato al mio account solo dispositivi che uso. Cosa succede se ne cancello uno inavvertitamente? Caspita, mi sono sbagliato e sono uscito da un dispositivo che invece mi serviva. Sai quante volte mi è successo? Non succede nulla. Quando prendi in mano il dispositivo, devi rimettergli la password e autenticarti. Quindi devi rimettere la password del tuo account quando provi ad usare l'account. Ti dirà, guarda che sei disconnesso, o riaccedi e fine così. Però è importante togliere i dispositivi che non usi per aumentare la tua sicurezza, per non avere in giro dispositivi che possano accedere al tuo account. Ok, sono a posto, quindi qui posso chiudere tutto. Adesso entro anche nel mio account Maggiolina per fare lo stesso lavoro. Quindi eccomi nel mio account Maggiolina. Quindi premo qui, gestisci il tuo account e andiamo dentro di nuovo a fare il lavoro della sicurezza. Per cui sicurezza, faccio scorrere i tuoi dispositivi, quindi due Windows e quattro Android. Gestisci tutti i dispositivi, vediamo di cosa si tratta. Quindi i Windows ci sono, uno è quello di adesso, uno l'ho usato l'8 aprile, comunque è sempre il mio computer o un altro mio computer e questi sono tutti quanti i dispositivi. Allora partiamo dal fondo. Vado su questo che è nuovo del 7 aprile e sarà quello che ho messo in funzione appunto qualche giorno fa. Trova dispositivo. Sì, è lui. Perfetto. Qui lascio stare. Che cosa succede su quei dispositivi quando tu fai trova dispositivo? Che ti apparirà quando li accendi una scritta che il dispositivo è stato trovato? Cioè, vieni avvisato che qualcuno, cioè tu, hai provato ad andare a cercare il dispositivo. Quindi l'ultimo in fondo è a posto e non devi fare niente. Quella scritta la cancelli se è a posto. Poi questo da 26 minuti fa. Allora, trova dispositivo e il telefono che uso in seconda, diciamo per cui va bene. Posso chiudere. Torno indietro. Uno, due, tre. Vediamo questo. Trova dispositivo. È il mio personale, quello che utilizzo attualmente. Ci siamo. E devo andare a togliere questo che è il nuovo dispositivo. Eccolo qua. Trova dispositivo che è quello che ho attivato durante il video degli account. Ecco qua il nome del dispositivo. E invece lo voglio pulire, lo voglio togliere. Quindi dico esci. Esco. E' a posto. Quindi sono uscito. E questo è il dispositivo disconnesso. Quello disconnesso viene messo in fondo. Per quello che parto sempre dal fondo così ci capiamo meglio. Ah, se guardi qui sotto, eccolo qua, ce n'è un altro. Questo è il Chromebook che è stato disconnesso. L'ho usato l'ultima volta il 12 marzo. Poi l'ho disconnesso perché adesso non lo uso più. Perlomeno non con questo account. Bene, mi auguro che questo video ti sia stato utile. se ti sia piaciuto. Qui sotto trovi il pollice in su per dire mi è piaciuto. Trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale. E trovi il pulsante abbonati se ti va di abbonarti al canale Associazione Culturale Maggiolina e vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati. Da questa schermata tu puoi uscire direttamente. Chiudi tutto e sei a posto. Vabbè, qui avevo sotto l'altra schermata. Chiudo di nuovo, torno sul desktop e sono a posto. Ciao!